Sono stato anche al mare però per poche ore e per pochi sabbiosi minuti giusto il tempo di dire alle onde c'ha un mare e mandarvi spumosi saluti fra nonnini, bambini, lettini, ombrelloni, secchielli, rastregli e stovigli vado a caccia di meravigliosi tesori cioè 4 o 5 conchiglie tutto questo per dire che sono stato al mare all'eterme mosaico a Ravenna con il Dotto e Riccardo e con Luca e con Beppe a suonare, suonare e cantare ma la cosa importante cioè fondamentale che vorrei sottolineare è che io l'altro giorno sarei andato al mare ma intanto dovevo suonare sono due cose difficili insieme da fare come stare sdraiati e seduti a me mi sa che qui mi dovrò contentare di mandarvi salmastri saluti all of me grazie a tutti